eccomi qua adesso vi faccio vedere come fare l'aumento a sinistra come potete vedere va verso sinistra ok e c'è sempre la maglia da prendere nel mezzo in questo caso se mette a fuoco ce la facciamo questa qui in questo modo nel ferro sinistro e lavoriamo da dietro così riuscite a vedere io lo fermo col dito perché sono mi scappa ok ecco fatto e poi quest'altro ok in questo modo praticamente avete verso sinistra ciao